Ed eccomi con la più giovane concorrente di questo San Revenue Talent edizione 2018, appena 11 anni, Giuseppa Candela, in arte Giussi, l'hai scelto te questo nomignolo? L'hai scelto te questo nomignolo Giussi? No, diciamo che tutti mi chiamano così. Tutti ti chiamano così e tu l'hai scelto anche come nome d'arte. Giuseppa, quando cominci a cantare, quando capisci di avere questa bella voce che hai? Quando mi emoziono di più sul testo della canzone e quando canto. Senti, a quanti anni hai iniziato però a cantare? Allora, ho iniziato a cantare più di due anni. Quindi a nove anni hai scoperto di essere così brava. Chi ti sostiene a casa? Di più il papà. Il papà, che è quello che ti segue. Insomma, di dove sei te? Di Buseta Palizzola in provincia di Trapani. Insomma, Sicilia, hai tagliato tutta quanta l'Italia. Sei contenta di questa esperienza e cosa ti ricorderai di questa esperienza? Allora, sì, sono stata molto felice. Mi ricorderò molto di questa esperienza perché c'è arrivare qui e un traguardo per me. Bravissima. Torna in Sicilia e racconto a tutti di quanto sei stata bene. Complimenti e in bocca al lupo. Crepi. Allora, sì, sono stata molto felice. Allora, sì, sono stata molto felice. Al prossimo episodio e il mio cuore è stato inclinato e l'ai guardato a te e l'ai guardato a te I knew that I could go on my own And I found a bridge of friends of mine To the truth that I Never, never, never thought you were mine Oh, and then they spent with you Can you wake up? Oh, you were mine In the land Grazie a tutti